Si è aperto con un tema impegnativo e a tinte drammatiche la rassegna dei venerdì letterari Primavera d'autore organizzata a Sant'Alfio dall'amministrazione e dal Consiglio Comunale in collaborazione con il giornalista Mario Pafumi e il gruppo Facebook Etnei nel Mondo. Presentato il romanzo Mailen, una verità nascosta di Lorenzo Marotta, docente di filosofia che affronta una ferita ancora aperta in Argentina, l'olocausto dei Desaparecidos. Apriamo questi venerdì letterari con questo ultimo romanzo mio che parla dell'olocausto dei Desaparecidos in Argentina ma anche parla della Sicilia perché dalla Sicilia sono partiti per il Sud America nel dopoguerra molti emigranti trovando o cercando in quei lontani paesi la fortuna. Spesso non trovarono la fortuna, spesso trovarono anche miseria e talora anche violenza. Prossimo appuntamento il 28 aprile con i Pensieri del Cuore raccolta di poesie di Angelo Vecchio Ruggeri. Spesso ha un'ultima epil auf, invitando invece a parlare diеспotal